però si respirava, si sentiva, io non sentivo, non c'era proprio il bisogno, per questo anche sono riuscita a restituire le immagini, perché appunto tutto questo si apertura talmente tanto che devo dire la vita sarà rimasta un giorno intero, sia in un luogo che in un altro, cioè un luogo che in un altro significa, l'ho fotografato due aree di Losango, una che è la rognetta che è questa che vedete nelle fotografie, che è un luogo che è stato demolito, guarda, ci sono alcune foto dove si vedono le ruste che stanno demolendo tutto l'intero stabile. E ho fatto, ho deciso di fare queste gigantografie lavorando su due eventi di Lecuna, cioè di un luogo che non esiste più, ma anche di un luogo che documenta una storia, pur nell'affuganza appunto di presenza umana, però è un fatto storico molto importante, quello che è successo in Calabria, perché non è solo la prima rivolta razziale, ma è anche la prima rivolta contro la mafia da parte degli immigrati, perché loro sono stati i primi a ribellarsi alla mafia, cioè non siamo stati noi calabresi, ma sono stati loro dal 2008 a fare la prima rivolta contro la mafia. e questo è...